l'aspetto del metodo autobiografico con cui sono entrata più in risonanza riguarda la parte finale del processo in particolare sto parlando della scrittura della fiaba la fiaba stimola le capacità cognitive dell'uomo che sono la memoria la tensione e il pensiero facilita l'apprendimento dei precetti educativi ed è indicata nel momento in cui si voglia realizzare un viaggio alla ricerca di se stessi il c'era una volta il magico inizio di tutte le fiabe stimola la fantasia e permette all'autore di raccontare di sé sicuro di non essere scoperto sotto le mentite spoglie di un personaggio della storia ambientata in un tempo in un luogo indefiniti quindi il protagonista del racconto diventa metafora personale della vita reale dell'autore che incontra parti di sé buie che sono le paure o traumi rimossi e che si impersonificano nella figura dell'antagonista la metafora serve ad aggirare le resistenze e le difese messe in atto dalla razionalità come istinto di protezione dell'io interiore questo viaggio porta infine alla consapevolezza di sé e da quest'ultima proverrà la base del raggiungimento del benessere quindi la fiaba è utile non solo all'educazione dei bambini ma anche agli adulti tra virgolette sani in contesti di percorsi di crescita personale alle persone con disagi psichici agli anziani con demenza a soggetti con vari vari tipi di disabilità ai bambini in età scolare per migliorare il loro livello di attenzione e per contenere l'iperattività o infine per slatentizzare sofferenze represse se pensiamo poi alla relazione d'aiuto appare evidente come insegnanti e operatori del settore socio sanitario dovrebbero essere i primi a farne uso il benessere infatti è conseguenza della conoscenza e della consapevolezza di sé quindi non può essere slegato l'assenza di questi ultimi quindi della consapevolezza di sé e della conoscenza di sé porta a malessere e a stress che a loro volta portano al burnout poiché non ci si riesce a spiegare molti aspetti dell'altro per questa ragione le figure impegnate ad aiutare il prossimo dovrebbero innanzitutto andare alla ricerca di sé stesse attraverso la spinta creativa intrinseca all'uomo il metodo autobiografico creativo è uno dei mezzi più adatti insieme alla meditazione alle altre discipline olistiche e artistiche creative per incrementare l'intelligenza emotiva per via della maturazione della comprensione delle emozioni provate della capacità di decodificare quelle che ci arrivano dagli altri dalla capacità di conferire un significato agli stati mentali e della capacità di porsi in sintonia con gli altri attraverso l'empatia che è alla base di tutte le relazioni d'aiuto ecco che in questo modo le emozioni acquisiscono un ruolo di guida nello sviluppo delle dimensioni dell'intelligenza emotiva che sono da una parte l'intelligenza intrapersonale e quindi della consapevolezza di sé e dall'altra quella la dimensione dell'intelligenza interpersonale quindi la conoscenza dell'altro ma come si riesce come come si può riuscire a conoscersi e a capire se stessi sicuramente è fondamentale sapersi mettere in discussione e avere voglia di scendere in profondità per scopirsi partendo da come gli altri ci vedono consapevoli che ognuno esprime inconsciamente attraverso il comportamento le proprie emozioni e stati mentali che infine vengono svelati grazie all'uso dei mezzi creativi che possono essere mezzi creativi artistici o il gioco creativo questi ultimi quindi si possono considerare come il ponte tra l'inconscio e la sua elaborazione permettendo di dare forma concreta e leggibile alle emozioni e ai vissuti e di scavare a fondo nell'io interiore per poi portarlo alla luce attraverso i lavori prodotti in questo processo di svelamento la creatività dunque consente di mettere a nudo le emozioni taciute latenti o nascoste nel nostro inconscio ci vogliono tanto tempo e pazienza per giungere alla consapevolezza osservando con nuovi occhi i prodotti artistici nati grazie alla scintilla creativa alla scintilla creativa che bypassa la razionalità la cognitività e serve come strumento di indagine di conoscenza di sé perché aiuta a riparare nodi esistenziali e aumenta la capacità di problem solving solo quando avremo chiaro come funzionano le nostre emozioni e sapremo gestirle al meglio tramite un profondo dialogo interiore permesso grazie al gioco creativo e tutte le varie tecniche che abbiamo visto nel metodo autobiografico creativo allora potremo giungere a parlare di empatia entrando in vero contatto con gli altri e raggiungendo perciò una sorta di consapevolezza sociale grazie per l'attenzione grazie a tutti